Sì, no, purtroppo la storia, la recente storia dice questo contro questa squadra perché abbiamo avuto difficoltà, invece stasera secondo me di difficoltà pochissime, è stata un po' la casualità che ha voluto che fossimo un po' incasinati in quel momento lì del secondo tempo, ma è quello il momento che mi è piaciuto di più, è quella che è la roba che voglio vedere, è quello che ci porterà poi a dover giocare un calcio importante, quella roba lì, sotto pressione, con tutti intimoriti perché ora è, noi si piglia, si ribalta tutto e si va a rifare quello che dobbiamo fare. Allora, tipo di accoglienza, bisogna essere disponibili ad accettare quello che ti fanno. senza dover andare a ragionarci molto. Si dà e si accetta e poi si valuta se è corretto, se non è corretto, ma intanto si accetta. Zaniolo ha giocato una buonissima partita perché è entrato dentro, ha fatto due o tre contrasti di quelli come deve fare, anche se poi in un paio di questi ha perso palla, però è entrato forte, è entrato da calciatore che voleva determinare, ha fatto quegli strappi che sono una sua caratteristica e ha dato una mano alla squadra perché ha recuperato anche due palloni importantissimi, per cui gli ho detto bravo e è un calciatore forte che ci può dare una mano. Magari quando senti uno stadio che non è dalla tua parte, è una cosa che ti può anche un po' dispiacere, ma insomma bisogna essere abituati. Siamo professionisti di quelli a tutto tondo e di conseguenza si deve trovare le soluzioni a qualsiasi situazione avversa ci si trovi, in qualsiasi. Sta bene perché ha fatto una grande partita e perché l'Italia ha vinto una partita delicata e quello che gli ho detto è che il prossimo lo ribatte lui e lui mi ha detto di sì. Grazie a tutti.